è quel momento dell'anno signori quel momento dell'anno in cui ci si ritrova no qui quando comunque hai poco o niente ancora da giocarti e provi a fare un resoconto stagionale guarda guardi indietro guardi la classifica guardi le altre partite guardi il calendario e inizi a fare i conti i conti di quello che si è sbagliato di quello che si poteva fare meglio di quello che magari si poteva anche fare peggio e inizi a cercare di studiare e darti delle risposte alle domande che ti accompagneranno in questo finale di stagione alla Juve manca poco mancano quattro partite di campionato più una finale di Coppa Italia bene o male quello che si è fatto si è fatto c'è niente da fare è ovvio che ci saranno dei rimpianti è ovvio che anche guardando la giornata di ieri di recupero della serie A siamo qua a dirci sul serio è ovvio che guardando la Champions siamo qua a dire sul serio però questo è e quindi questo è il classico video di fine anno post giornata di calcio intenso e andiamo a fare due parole un po' su tutto quello che è accaduto si dirà tutto e si dirà niente ma alla fine il calcio è anche questo la classica chiacchiera da bar inizia tutto con la Fiorentina che ne prende quattro contro l'Udinese ora io ieri qui sul canale vi ho portato la tier list di quelli che potrebbero essere gli acquisti della Juventus e c'era un nome Destiny Udoge che ieri ha pure fatto gol pure beccato un palo ed era uno di quei giocatori che vi avevo detto attenzione questi sono interessanti anche perché noi cerchiamo un profilo lì a sinistra Udoge è alla prima vera stagione da protagonista in serie A dopo qualche poche apparizioni con l'Ellas Verona quest'anno ha fatto molto molto bene è un giocatore molto promettente e chissà che non possa essere un colpo in chiave futura della Juventus proprio perché lì a sinistra si sta cercando qualcosa ce l'hanno detto per il futuro la Juventus sta cercando un terzino sinistro un centrocampista e un giocatore che possa giocare esterno largo a destra Io ora non sono così tra l'altro inquadrato su quella porzione di campo perché secondo me a destra tra Chiesa, Quadrado, eventualmente Sole se vorrei essere aggregato alla prima squadra un paio di giocatori ce li abbiamo e Allegri ci ha detto più volte Chiesa lo vedo meglio a destra quindi io non sono così convinto che si andrà lì Il nome di Di Maria è interessante l'abbiamo analizzato un giocatore che potrebbe davvero arrivare alla Juventus però io non sono così convinto che la Juve voglia fare proprio lì a destra Poi questa è la mia considerazione la mia presa di posizione personale i miei due centesimi un pensiero al vento che io vi butto qua di fronte anche a tutti i cronisti che invece danno l'opzione di là Ma vediamo vediamo che cosa succederà alla fine invece il terzino sinistro sì è una necessità è una priorità Alexandro ragazzi ormai da poco lo sappiamo l'abbiamo già detto mille volte e attenzione che Udogia potrebbe essere il giocatore giusto per la Juventus sul quale fare un investimento Magari il classico giocatore con cui Grudinese te la giochi sul prestito biennale con obbligo di riscatto o dove vai a inserire una contropartita Un giocatore che comunque la prima stagione a titolare effettiva in Serie sta facendo molto molto bene non avrei mai pensato lì della Fiorentina a crollare in questo modo Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro di noi sono letteralmente crollati tra la Salernitana e ieri con l'Udinese due sconfitte assurde che non avrei mai pensato Ma attenzione il calcio ha fatto anche di queste cose qua una squadra come la Fiorentina che secondo me aveva overperformato e nettamente migliorato quella che era la posizione dell'anno scorso dove aveva fatto 40 punti Oggi arrivarsela a giocare per l'Europa è un ottimo risultato per la Fiorentina a maggior ragione dopo aver addirittura ceduto a gennaio il centroavanti che è venuto proprio da noi Luzjan Vlaovic quindi non sono cose facili scontate l'abbiamo visto noi con Ronaldo eh c'è di il centroavanti c'è di quello che ti fa gol quello che ti va a convertire in rete Magari quello che crei durante la partita non è mai facile e quindi non mi sarei mai aspettato la Fiorentina comunque così in alto come non mi sarei mai aspettato una Fiorentina che crolla Nelle ultime due di Serie A più la terza la nostra no in Coppa Italia contro di noi Questo fa capire anche le scorie di un'eliminazione o di una sconfitta che magari alla quale tenevi particolarmente e secondo me Noi abbiamo vissuto la stessa cosa tra Villareale e Inter due partite dove eravamo sovraccarichi di emozioni E poi queste scorie negative tra l'altro con l'eliminazione dell'Italia dal mondiale nel mezzo per non farci mancare niente Si sono tutte generate all'interno del brutto pari col Bologna e allora mi ricollego ancora una volta al Bologna Dato che ieri sera non avrei mai pensato di vedere l'Inter perdere perdere un recupero di campionato contro il Bologna Un Bologna che bene o male non ha più niente da chiedere al campionato mentre l'Inter aveva tutto da chiedere Perché ora la statistica va assolutamente al favore del Milan Vi ricordate quel video che avevo fatto qualche tempo fa dicendovi attenzione Perché se l'Inter vince il recupero col Bologna la storia della Serie A dice che al 100% è lei che vince lo Scudetto Se l'Inter non vince il recupero col Bologna la storia della Serie A dice che al 100% è il Milan a vincere lo Scudetto Quindi la partita di ieri sera, la vittoria del Bologna ieri sera per quanto riguarda la storia della Serie A Quindi da quando la Serie A è a 20 squadre con 3 punti per vittoria al 100% dà il Milan come vincitore del trofeo Vediamo se sarà ancora così oppure no, a 4 dal termine con il Milan che è avanti Con l'Inter che poteva fare il sorpasso proprio contro il Bologna, è vero a Bologna e non in casa Noi abbiamo pareggiato in casa contro il Bologna una brutta prestazione contro il Bologna Un brutto pari che arriva in extremis, sappiamo anche come è arrivato con le due espulsioni per il Bologna Quel casino rigore non rigore fuori dentro, giallo rosso, sappiamo tutti Con la rovesciata di Morata, il colpo di testa di Blaubic Ma questo ci fa capire che anche le partite che sulla carta consideriamo un po' più facili In realtà sono partite che possono nascondere delle difficoltà A maggior ragione se sei la squadra campionitaria in carica Con i cugini, quindi la squadra della tua stessa città che inseguono, anzi che sono davanti E tu devi fare il sorpasso che a questo punto, citando Pelle Gatti, la prossima volta Tutte le squadre diventano complicate Perché tutte le partite comunque valgono tre punti In un campionato a 38 partite dove non c'è l'eliminazione diretta Ma dove si sommano tutte queste cose Come non avrei mai pensato rivederla a Juventus A un punto dal terzo posto Facciamo un passo indietro, siamo a dicembre Chiudiamo il giorno d'andata Ci prepariamo per la pausa invernale a iniziare il nuovo campionato Magari festeggiando il Capodanno E vi dico A quattro dalla fine siamo a un punto dal Napoli E possiamo giocarci l'accesso al terzo posto Che è vero non è chissà che cosa Perché non sono qui a vendervi un sogno e dirvi Ragazzi arriviamo terzi, facciamo la stagione della vita Non è assolutamente questo Ma sicuramente vedendo la prima parte di stagione della Juve Che praticamente era un cammino da Europa League Bene o male E guardando la seconda parte di stagione della Juve Dove i risultati La striscia dei risultati utili consecutivi Ti piazza probabilmente tra le prime in assoluto Non so se da scudetto Nel senso prima in classifica Dal ritorno in poi O giù di lì Ti fa capire intanto Che probabilmente questa squadra Poteva e doveva dare di più nella prima parte E soprattutto che anche grazie al mercato invernale Qualcosa abbiamo aggiustato E quando noi siamo qui a pensare Che è tutto da buttare Tutto da eliminare Dobbiamo invece semplicemente accettare una realtà Che dentro i confini nazionali Con questa stessa rosa Abbiamo assolutamente la potenzialità Per tornare a vincere i campionati O comunque entrare all'interno delle lotta Perché una cosa che mi fa veramente incazzare In questa stagione È non esserci mai entrato nella lotta a scudetto E ne hai avuto la possibilità Perché io ve lo ripetisco Non ho mai creduto nello scudetto Ma quella partita con l'Inter E ve lo dico anche pre-partita con l'Inter Se vinci quella partita lì Sei ufficialmente dentro la lotta a scudetto E per quello che è accaduto in campo E per quello che abbiamo visto in campo Mi fa ancora più arrabbiare Perché sarebbe stata veramente La partita a spartiacque della stagione Dove un'eliminazione coccente Dalla Champions E dove anche quella del Mondiale Sarebbero passate tutti in secondo piano Perché la Juventus sarebbe poi entrata In una lotta a scudetto allucinante Per quelli che erano i presupposti Per quelli che erano le sensazioni Ed è vero Questo accade perché? Perché le altre davanti hanno mollato E perché la Juventus comunque è riuscita a vincere delle partite Senza dominare il lungo e il largo Semplicemente rimanendo lì Compatta, concentrata con quello che c'era A volte dando anche meno Di quello che poteva dare E questo sì Ovvio Va ad alimentare il fatto che questo campionato è bellissimo Ma allo stesso tempo anche mediocre Devo dire una cosa però Rispetto magari a qualche stagione fa Dove c'erano dei campionati un po' così Dove magari arrivava a seconda la Roma O squadre di questo tipo E la Juve magari vinceva con 15-20 punti di distacco Il campionato si è livellato Perché è vero che non c'è più la qualità assoluta Di quella Juve che in Italia e anche in Europa andava a vincere Però bene o male Dalla prima alla quarta Siamo tutte lì Ed è anche un fattore positivo Che squadre come la Fiorentina Che l'anno scorso giocavano per la salvezza O come l'Ellas Verona O come l'Udinese stessa Stiano livellando verso l'alto C'è più proposta di calcio in Italia La Serie A si sta comunque evolvendo pian piano Con i limiti che ha Perché la Serie A è un campionato Purtroppo in questo momento Rispetto a tanti altri mediocre Ma se lo vado a paragonare Che ne so Con la Ligan Tutto il rispetto per la Ligan Non è un campionato spettacolare O forse anche col campionato spagnolo di oggi Forse non siamo così lontani A livello di campionati Per quella che è l'offerta E per quelli che sono i calciatori che ci militano C'è una sola Una sola Lega Che in questo momento è anni luce Avanti a tutte quelle altre Che è la Premier League È la Premier League È la più ricca È la più bella È la più divertente Dove ci vanno i calciatori Dove tutti sognano di andare a giocare O da allenare Quella Ad oggi è irraggiungibile E sembra un po' Di pensare a quella che era la Serie A Dei Tempi d'Oro Che purtroppo io non ho vissuto Per questioni anagrafiche Dove comunque Anche la Fiorentina Poteva avere battistuta In attacco Roba del genere Dove c'erano le sette sorelle Bene Oggi ci sono le sette sorelle Sono otto Oggi sono otto Perché sono le sette dell'epoca Più l'Atalanta Che ieri Ci spamma un 4-4 Contro il Torino Che anche quello Non avrei mai 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 immaginato Mai 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 immaginato E allora dico Se la partita dell'altra sera Spettacolare Bellissima Tra il Manchester City Real in Champions Finisce 3-4 4-3 E in Serie A comunque Finisce 4-4 Perché Per la Serie A Parliamo di Comunque sì Vabbè Campionato in cui Vabbè Le difese E di là Spettacolo Perché ci sono i valori assoluti Dei calciatori Che hanno fatto la differenza Perché l'altra sera Io Ve l'ho descritta come La partita perfetta Quella tra Manchester City E Real Madrid E qualcuno si è arrabbiato Perché ha detto No la partita perfetta Non può essere perché le difese Ragazzi ma Io vi ho descritto la partita perfetta Per uno spettatore Per un tifoso esterno E lo dico nei primissimi minuti Non vi ho detto che è la partita perfetta Perché Se fosse allenatore Vorrei quella È ovvio che Allora la partita perfetta Finisce 0-0 La partita perfetta Finisce 0-0 Perché la difesa non sbaglia mai Le difese non sbagliano mai È ovvio Che da spettatore A livello di spettacolo Proprio di quello che vogliamo vedere Lo 0-0 Non è un gran risultato Il 4-3 È sicuramente migliore Ma io tante volte vi ho detto Che se invece A giocare la Juventus Piuttosto che Subire tanti gol Preferisco prenderne meno E comunque fare in modo Che ci sia l'uno Vi faccio l'esempio di Roma-Juventus 3-4 di quest'anno Che è stato spettacolare Emozionante Fantastico Ma alla fine della partita Vi dico ragazzi Qualsiasi altra squadra Mi va bene vedere il 4-3 Quando gioca la Juve Io non riesco a reggerle Queste cose Perché intanto sto male A vederle in diretta Da tifoso E in seconda battuta Quando prendi tre gol Significa che comunque C'è qualcosa che non va E quindi delle due Preferirei vincerla 2-1 O 1-0 Piuttosto che il 4-3 Poi va benissimo Il 4-3 Lo spettacolo Fantastico Quella partita È incredibile Per la reazione Che hai tirato fuori Allo stesso tempo Tu ne hai presi tre Nella prima mezz'ora E quindi per forza di cose Quando ci sono tanti gol Vuol dire che ci sono Anche tanti errori Perché se la difesa Non sbaglia mai Gol non lo prende A meno che non succeda Non so Una deviazione Qualcosa di sfortunato E dall'altra parte D'altro che abbiamo parlato Di calcio inglese Non possiamo non fare menzione Del Liverpool Che vince 2-0 Contro Villareal La cosa impressionante Della partita del Liverpool Gli risalcio Anche la maglia Rez Oggi Nonostante tutto Che tra l'altro Vabbè Loro hanno Nike O Adidas Quindi è diverso Ma la cosa veramente Impressionante del Liverpool Signori È il pressing Ultra offensivo Perché tante squadre Pressano in maniera offensiva Il Liverpool pressa In maniera ultra offensiva Sempre E questo È associato A una preparazione atletica Forse fuori dal comune E una squadra Costruita Veramente bene Perché Tolto magari sa Dio Ma ne che non è esattamente Un centravanti Tutti i giocatori Sono nelle loro posizioni Perfette Privilegiate Sono lì Giacono Con un sistema consolidato In cui tutti sono Nel loro Posto migliore E questo è l'unico sogno Davvero Che mi porto dietro Per la Juventus Perché Sinceramente Mi sono stancato Che negli ultimi anni Negli ultimi due Soprattutto Dobbiamo sempre Giocare Con un giocatore Che sta un po' più bloccato Uno che si sposta Uno che in realtà Parte da lì E poi va là Per coprire Che nella fase difensiva Fa così E invece Quell'offensiva Fa colà Perché compirlo Abbiamo fatto così Allegri anche quest'anno Ce lo sta facendo vedere Col centrocampo storto Che rabbiò un po' E lì allora Un po' si stringe E sale il terzino Il Liverpool Nella tranquillità Del suo 4-3-3 Interpreta la partita Con il 4-3-3 Quando c'è da difendere Andrà Con gli esterni A pressare Gli avversari Che è un po' Quello che ha fatto La Juventus Con l'Inter In questa partita Perché È stata bella ed efficace La partita Che la Juventus Ha fatto con l'Inter Perché la Juventus L'ha giocata a viso aperto L'ha giocata in pressing Sull'Inter L'ha giocata su livelli Alti A livello proprio Di intensità E ci riesce la Juve A fare queste partite Perché l'abbiamo visto È riuscita a farla Contro l'Inter Che è la miglior squadra In Italia In questo momento E questo ti dà anche speranza Per la finale di Coppa Italia Dove l'Inter Tra l'altro Sarà dentro A una lotta a Scudetto E quindi potrebbe anche Mollare qualcosa Che adesso Questo lo vedremo Perché ci sono Ancora un po' di giorni Prima della finale di Coppa Italia Ma la Juventus Questo lo può fare Ma se non è stata brava A farlo È perché Per tante volte Durante la stagione Invece Abbiamo avuto il braccino Che cos'è il braccino Avete mai giocato a tennis Avete mai avuto Il braccio del tennista Quando Tu Sei in fiducia Non so Vale anche per il paddle Dato che va tanto di moda Io qualche partita Paddle l'ho fatta Mi piace molto Quando sei in fiducia Tu Vai Tiri Forte e preciso Sempre Sai che la palla va lì Perché sei in fiducia Sai fare il movimento Non serve nemmeno Mirare Concentrare Non devi pensare Il tuo cervello Fa tutto in automatico E tiri forte e va lì Poi magari inizi sempre A tirar forte e va lì Forte e va lì Forte e va lì Però una volta esce Di qualche millimetro Una volta invece che Beccare la riga Va proprio fuori Una volta invece che Passare a fil di rete Viene di qua Il net Ti cade dalla tua parte Invece che dall'altra Allora inconsciamente Inizi a dire Oh però Allora forse è meglio Essere un po' più cauto E cercare semplicemente Ributtare la palla di là E questo è il braccino Quando vedi che Le cose vanno in fiducia Allora tu magari vai Quando vedi che Invece le cose vanno male Invece che rischiare Per paura Per paura inconscia Magari non è nemmeno voluta Però per paura inconscia Inizia a rallentare un pochino E dice Allora mi risparmi un po' Per essere più cauto Non sbagliare Piuttosto che Offendere Cerco di contenermi E me la gioco magari Sul lungo Sul palleggio E questa cosa L'ho vista tante volte Nella Juve di quest'anno L'ho vista tante volte In realtà In tutta la Serie A Perché probabilmente Anche questa cosa Che ne Pioli Ne Simone Inzaghi Ne Spalletti stesso Che sono i primi tre Classificati in Serie A Che per lunghi tratti Si sono giocati lo Scudetto Tutti e tre questi qua Non aveva mai vinto Lo Scudetto prima d'ora E in questa stagione Uno solo Mi verrebbe da togliere Spalletti Dalle equazioni In questo momento E quindi uno Tra Pioli e Simone Inzaghi Per la prima volta Quest'anno vincerà Lo Scudetto Cosa che non hanno mai fatto In anni e anni di carriera E quindi magari Un po' di braccino L'hanno avuto Perché non sono mai Stati in grado di La Juventus Diversamente che Allegri E anche diversi giocatori Che comunque In Italia O all'estero In altri campionati Hanno già vinto La Juventus La Juventus Ha avuto il braccino Nei momenti decisivi Dove di solito Massimiliano Allegri È bravo a compattare La squadra Dove magari ci mette Una pezza Anche senza essere Chissà che cosa In qualche modo Va avanti E a noi è mancato Questo quest'anno È mancato Nei momenti decisivi Riuscire A dare il passo In avanti Perché Io ribadisco Penso a quello Che è il campionato Di oggi Di Serie A Penso alla rosa Della Juventus Di oggi Non credo Che ci sia bisogno Di cambiare Chissà che cosa Poi Se mi parlate Di Europa Le alzo le mani Perché secondo me Ne abbiamo ancora Ragazzi Per arrivare lì Per oggi Forse è anche inutile Metterci qua E dire Eh però Se non avessi perso Quella partita Con l'Empoli Se non avessi Pareggiato Quella con l'Udinese Se non avessi Pareggiato Quella con il Venezia Le hai fatte Le hai fatte Perché allora L'Inter Se non avessi perso Ieri c'era col Bologna Napoli Se non avessi perso Il remonta Purtroppo le cose Che accadono Accadono E vanno prese Come tali Se dentro i 90 minuti Quindi entro Il fischio finale Dell'arbitro Quelle cose Accadono Sono accadute Fine Puoi solo Pensare A come si è svolta Come si è sviluppata La stagione In Serie A E in Champions League Perché vedere il Villareal Che comunque Con il Liverpool Fa esattamente La stessa partita Che ha fatto con noi Ma con il Liverpool Che non molla Nel secondo tempo Perché noi abbiamo fatto Un ottimo primo tempo Poi nel secondo Abbiamo detto Sai che cosa Relax Braccino Braccino Abbiamo attaccato Non è mai entrata Abbiamo anche preso Una traversa Allora Cerchiamo di essere Un po' più cauti Però noi non abbiamo La forza mentale Del Liverpool E non abbiamo Sicuramente La forma atletica Non abbiamo La qualità Non abbiamo Tante cose Del Liverpool E quindi è giusto Non essere lì Io sono ancora Dell'idea Che il Villareal Si potesse buttare fuori Anche con questa Juve E quindi Più che pensare Sul mercato Quei e là Io vorrei ripartire Dall'idea Che quest'anno Ci siamo bruciati Una stagione Perché purtroppo Per la Juventus Ragazzi Non prendiamoci in giro Non vincere lo scudetto E non essere Non provare Andare avanti In Champions E non giocarsi Tutte le carte Fino all'ultima goccia Di sudore Non può essere Considerato un successo E interrogarci Perché Perché Da qualche anno Nonostante tutto Nonostante il ben di Dio Che comunque Abbiamo sempre avuto Negli altri anni Nonostante Ronaldo Quest'anno Anche senza Ronaldo Nonostante Magari un campionato Che è livellato Tutto verso il basso Se non le squadre giù Che livellano Verso il suo E quindi crea Ancora più suspense E quindi L'Impoli stesso Può battere la Juve Il Napoli Perché In determinati momenti Non ci siamo stati E questa è la cosa Che davvero Dobbiamo portarci avanti Per l'anno prossimo Non ce ne sono tante altre L'unica cosa Che dobbiamo salvare È questa Del perché A un certo punto Siamo riusciti A tirar sulla testa E nel momento decisivo Invece No Questa è l'unica domanda Davvero Che dobbiamo portarci avanti E a cui Aggrapparci Per dare una risposta Scusate 20 minuti di chiacchiera Avevo tante cose da dire Grazie 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 Grazie